Salve a tutti ragazzi da PierreDarkNight91 e benvenuti nella seconda puntata su PES 2019 quest'oggi partiremo con le partite classificate online però prima di andare a fare queste partite vi faccio vedere qualche piccolo cambiamento nella mia gestione della squadra allora sapete benissimo che avevamo Coutinho, sapete benissimo che avevamo Beckham ho dovuto fare qualche piccolo cambio per potenziare leggermente la difesa e mettere Bailey ho dovuto togliere Beckham Beckham ce lo terremo da parte per altre partite appena scadranno i contratti di Coutinho e Lewandowski oppure di altri giocatori abbiamo Quaresma come ha la destra perché siamo stati fortunati abbiamo trovato Quaresma abbiamo un costo totale un costo totale di 249 su 250 abbiamo il terzino sinistro che è inguardabile abbiamo un difensore centrale che è inguardabile il portiere così e così il mediano è inguardabile due centrocampisti abbastanza forti vi ricordo che Vidal è 80 di overall perché è a livello 1 e l'attacco è spettacolare quindi signori andiamo a trovare subito la prima partita classificata ovviamente sono la mia è la mia prima partita sia chiaro è la mia prima partita quindi di sicuro non saranno partite semplici per me troveremo qualcuno troveremo qualcuno io nel frattempo vi chiedo di lasciare tanti bei pollicioni in su vediamo chi ci trova connessione del tuo avversario non riuscita benissimo ce l'abbiamo fatta ragazzi sono passati 5 minuti il nostro avversario è leggermente più debole ha uno storico di una vittoria sconfitta sconfitta vittoria vittoria quindi viene da due vittorie consecutive quindi siamo pronti stadio ok ho messo le patch per le magliette adesso avremo la maglietta originale della Juventus devo ancora mettere quella della Premier League quindi io vado avanti aspettiamo il nostro avversario va bene signori sta per iniziare abbiamo già schippato ok FC Pierre Dark Knight ok abbiamo ricevuto 120 punti per aver dato il calcio d'inizio prima partita non vi dico bugie facciamo girare un po' il pallone devo prendere confidenza con il gioco perché sto rischiando già ecco Vidal si gira molto bene attenzione ancora perdiamo il pallone il passaggio Vidal tutto di prima vi tocca a Coutinho per Lewandowski ancora 1-2 bellissimo attenzione Coutinho no palla che rimane lì sfortunati un'occasione a testa signori un'occasione a testa attenzione perché rischiamo attacca il nostro avversario Zaha attenzione Zaha la rimette in mezzo sul primo palo e la parata del nostro portiere continua ad attaccare sono arrugginito con Pess sono molto arrugginito con Pess Beckham la mette sul secondo palo salvataggio sulla linea ci salviamo mamma mia niente ragazzi non siamo fortissimi non siamo per niente forti ecco il tocco nell'area di rigore scivolata no la parata è il nostro portiere ma siamo fortunati merita il nostro avversario benissimo vai così benissimo adesso devi metterla per Lewandowski adesso devi metterla per Lewandowski no ragazzi stiamo ricevendo davvero tanti GP dai dai su Beckham pallone in mezzo no 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 fuori bene attenti 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 ok la capozella bellissima un minuto di recupero finisce il primo tempo ragazzi come prima partita non c'è male non stiamo giocando male abbiamo più il possesso di palla il nostro avversario tira di più perché ha giocatori che sono già livellati noi dobbiamo ancora capire dobbiamo ancora sistemare le tattiche i numeri di maglia ma sono soddisfatto anche se perdiamo comunque siamo a livello dai iniziamo questo secondo tempo ok dalla 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 ok quaresma 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 madonna mia il portiere madonna potevo avvicinarmi ma avevo paura di non riuscire a tirare in porta quaresma la mette in mezzo bello il cross il numero 3 Lewandowski ah bene usciamo usciamo da qui vai cutigno cutigno lo salta lo salta di netto attenzione dall'altra parte libero quaresma attenzione lo stop quaresma ci prova quaresma non ci credo nella nostra prima partita quaresma signori quaresma mamma mia che cambio di gioco che bel cambio di gioco di cutigno abbiamo fatto un'azione spettacolare siamo in vantaggio con il gol di quaresma rivediamo il replay ecco qui saltiamo l'avversario vabbè l'avversario non vuole vedere il replay li brucia troppo in fondo schiena perché ha fatto più tiri in porta ma più tiri in porta non vuol dire vincere attenzione ancora noi ecco il tocco cutigno può andare cutigno finta di cutigno si infila cutigno cutigno 2 a 0 scusate ragazzi ma questo sta schippando perché proprio li brucia ok è nostra vidal eccolo certuro 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 la parata di david degea contropiede per il nostro avversario contropiede mamma mia bellissimo pes quest'anno attenzione provai il gol prova a segnare ma noi abbiamo un portiere incredibile la para perde tempo finisce finisce cutigno e quaresma chiudono questo primo match per l'fc pierre dark knight anzi doveva chiamarsi fc dark knight però ragazzi se questo è per il livello nessuno sale a livello 2 bailey lo abbiamo già a livello 30 su 52 vanaken 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 livello 30 su 48 livello 1 su 44 vidal attenzione quindi saliamo e quindi da 400 a 466 bonus classifica squadra bonus forza squadra specialista in giocatori punti di forza passaggio alto osservatore premi partita va bene ci da un osservatore si ma non ci fa vedere una classifica c'è non c'ha una classifica non è come la road to division 1 non ha senso giocare così a che senso ha non ho capito non l'ho capita non l'ho capita perché scusami che gioca a fare una partita classificata se non mi fai vedere che sono in divisione oppure ho un determinato punteggio non l'ho capita ragazzi per niente proprio vai al matchmaking non ho cambiato nulla signori eh quindi non ho messo forma fisica non ho messo nulla questa è la mia seconda partita adesso abbiamo la valutazione più alta e qualcuno di voi deve spiegarmi qualcosa ok avversario trovato sulla valutazione leggermente più scarso arriva da una vittoria contro lo Schalke 04 a nelle ultime 5 partite 3 sconfitte 2 vittorie vediamo un po' la squadra del nostro avversario a Simeone tutti Hulk Messi no ha trovato Messi De Rossi in difesa si può ammettere ha giocato anche difensore centrale ma dovrebbe essere centrocampista Messi poi al centrocampo bah non lo so ragazzi calcio d'inizio che cos'è neve che cos'era neve non ho capito Real Madrid ok all'Allianz Stadium che cos'è neve quella vabbè nevica signori Juventus Real Madrid vediamo se vinciamo anche la seconda e siamo già stanchi benissimo non ho messo la forma fisica siamo già stanchi oddio vabbè ma io non lo sapevo io non le so ste cose ce li ho già stanchi 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 prima occasione per il nostro avversario rubiamo il pallone subito il tocco attenzione arriva Quaresma Quaresma si è infilato la mette in mezzo attenzione tiro nonostante siamo più stanchi ha segnato Lewandowski siamo in vantaggio benissimo prima occasione rubiamo il pallone con Vidal che in quella zona di centrocampo è perfetto avere Vidal già dall'inizio un centrocampista che ti aiuta tantissimo nei contrasti mamma mia Vidal chiede subito il pallone attenzione Quaresma Quaresma si gira la mette in mezzo il cross è buono attenzione Lewandowski lo stop Vanaken la parata del portiere corner la gara rimane lì mamma mia trentesimo se ne va con Messi al centrocampo ricordiamo Messi al centrocampo ecco qui tocco a Hulk Hulk prova a girarsi mamma mia che potenza il nostro portiere ci sta salvando adesso secondo palo colpo di testa di Coutinho c'è spazio stop tiro deviazione pala che rimane lì mamma mia che fortuna qui sia lui che io siamo stati fortunati su quel tiro se ne va Hulk scambia ancora bella giocata esce il portiere palo mamma mia ragazzi non si sa il motivo perché sto ancora vincendo finisce il primo tempo ragazzi siamo fortunati siamo sull'1-0 più possesso di palla per lui lui ha tirato di più ma siamo in vantaggio ok abbiamo fatto una sostituzione proprio il terzino destro dove punta il nostro avversario con Hulk era già stanchissimo quindi cerchiamo di bloccare Hulk con il nuovo difensore che abbiamo messo che è un terzino destro 59 ottimo di prima dalla benissimo attenzione attenzione Coutinho Coutinho finta Coutinho si infila Coutinho mamma mia che bella parata il portiere non è finita attenzione è arrivato qua Quaresma Quaresma la mette sul secondo pallo deviazione corner benissimo ragazzi rapaci mezzo a 2 benissimo ecco il tocco ancora 1 Dallo Dallo benissimo Coutinho secondo pallo mamma mia che giocata che giocata che giocata questo schippa tutto gli sta rodendo proprio il fondo schiena ottimo guardalo c'è Lewandowski non c'è fuori c'è fuori gioco c'è fuori gioco mamma mia di un pochino se oramai si è capito il giochettino attenzione Traoré si è infilato il portiere il portiere il portiere Vidal Vidal butala fuori butala fuori Vidal ancora lui attacca attacca chiusura butta fuori Vidal benissimo Arturino colpo di testa contropiede contropiede ecco il passaggio attenzione Coutinho 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 benissimo dall'altra parte Lewandowski arriva Gino potevo fare il 2 a 0 potevo fare il 2 a 0 non ci credo bestia che roba chiudilo no questo è gol questo è gol gol va bene 1 a 1 ragazzi non so se se lo meritava però come prime partite stiamo andando benissimo stiamo andando proprio bene peccato che la difesa è stanchissima già va bene vai provaci madonna mia benedetti l'ingornati di Puglia fa sempre lo stesso gioco fa sempre lo stesso gioco non merita neanche il pareggio fa sempre lo stesso gioco signori fa sempre lo stesso gioco non lo merita il pareggio non lo merita il pareggio signori non lo merita non lo merita ci chiede il pallone mamma mia mamma mia fa sempre lo stesso gioco passaggio poi scatta in velocità sulla fascia e cerca di sfruttare il fatto che abbiamo difensori lentissimi ok ultimazione 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 palpitazione attenzione palpitazione attenzione cutigno l'ha preso in faccia c'era tantissimo spazio l'ha preso in faccia finisce uno a uno quindi un pareggio ci sta ci sta ragazzi abbiamo fatto due ottime partite sono soddisfatto mamma mia bravissimo adesso vediamo se ci fa vedere una classifica forse bisogna fare cinque partite per poi classificarsi cioè non lo so livello due ok quaresma livello due esordiente meno di dieci partite siamo esordiente meno di dieci partite può essere per questo preparatore di esperienza speciale ragazzi quasi quasi ci facciamo uno sballonamento eh attenzione allora ragazzi quasi quasi prima di concludere il tutto ci facciamo solo un piccolo ball opening apriamo solo questa paghiamo con le monete my club e chissà ragazzi paghiamo chissà ci esce un bel giocatore anche se per il momento non ne possiamo buttare tantissimi in campo quindi andiamo a vedere ho notato che questo è il campionato d'appartenenza quindi è nel campionato francese pallone nero da mamma mia ragazzi mamma mia ragazzi lo sclil lil bamba bamba bene basta che è un difensore che cos'è no esterno destro alto 88 88 velocissimo mamma mia ragazzi al posto di cutinio appena scadrà il contratto 22 anni chi è? ma così forte questo davvero non ci posso creer siamo fortunati al 100% fortunatissimi avanti aggiunto ai membri my club aumento familiarità va bene quindi ragazzi guardate un po' cutinio è 88 il nostro nuovo giocatore è 88 guardate la velocità assurdo quindi appena scadrà il contratto di cutinio sappiamo che possiamo già mettere bamba bamba bam bam quello comunque ragazzi lasciate tanti bei pollicioni in su mi raccomando sotto in descrizione sotto nello spazio commenti scrivetemi qualche consiglio fatemi capire come funzionano le partite classificate perché non vedo un gruppo non vedo una classifica quindi non so se sto andando bene sto andando male per il momento nelle prime due partite una vittoria è un pareggio che forse non meritavamo neanche di pareggiare meritavamo di vincere il nostro avversario ha sfruttato il fatto che avevamo giocatori stanchi e io non lo sapevo e oltre a questo ragazzi i crediti li racimolò in modo che poi faremo una puntata a parte dove faremo ball opening ragazzi lasciate un bel like condividete commentate un bacione a tutti da pierdark knight 91 mamma mia l'inglese di merda proprio sto inguaiato ciao 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 ciao